Cari amici bianconeri, ciao da Simone Absim, innanzitutto auguri a tutti e auguri alla Juventus, auguri a tutti per ogni santino, auguri alla Juventus per questo 120esimo compleanno, fondata il 1 novembre 1897 e infatti è in vendita da oggi, se avete visto, sullo store della Juventus, la maglia celebrativa esclusiva, una maglia vintage, bianconera, essenziale, molto bella, di questo 120esimo compleanno della nostra vecchia signora, una maglia che esiste solo in 1897 esemplari e costa 189,70€, cioè 1897, quindi fortunato chi la comprerà, chi la troverà, perché ovviamente è in tiratura limitata, ma fortunato anche per il prezzo, io soprassiedo, quindi non la comprerò, mi dispiace, sarà la maglia che verrà indossata domenica 5 novembre contro la Juventus nel match a casalingo, prima della nuova pausa nazionale, quindi Benevento sarà onorato oltre che di venire per la prima volta su storia all'Allianz Stadium, ma anche di vedersi contro la Juventus nell'unica volta in cui indosserà questa maglia celebrativa. Una celebrazione, un compleanno che però ci sono andati storti, perché parliamo di Sporting Juventus, vi parlo adesso della partita, vi do la mia analisi. L'umore non è assolutamente quello giusto, non è assolutamente quello idoneo a festeggiare, è un compleanno seppur così importante come il 120esimo della nostra amata squadra. Allora, ieri vincendo si aveva l'occasione unica di qualificarsi agli ottavi con due partite d'anticipo e ovviamente è stata buttata, perché questa Juventus che da Cardiff, lei e alcuni tifosi, lo dirò tra poco, non hanno ancora imparato niente, ogni volta che si materializza in qualche modo una sorta di finale, sparisce dal campo. Ieri era una sorta di finale, perché vinci, conquisti, non vinci, non conquisti. E non è solo non conquisti, ma ti metti in grossi guai, perché e parlo subito di questi tifosi che dicevo, io ho letto dei tifosi che vedono il bicchiere mezzo pieno, col pareggio di ieri, con la prestazione pessima di ieri, perché il Barcellona ha pareggiato. E quindi tutto sommato la situazione non è tanto negativa. Oh, ma cosa state dicendo? Ragazzi, voi dovete capire, dobbiamo tutti capire che cosa è successo a Cardiff. Cardiff ci ha insegnato che questa Juventus deve fare un salto di qualità e ancora non l'ha fatto e ancora non lo sta facendo. È ancora una squadra vittima di se stessa nelle partite dove è in conta, nelle situazioni dove è più importante dare il massimo. Quindi veramente stiamo male. E stiamo male anche dal punto di vista di classifica per la Champions. Perché noi adesso abbiamo in casa, sì, ma in Barcellona, il Barcellona, la prossima partita, con l'ovvia difficoltà che possiamo vincere. Perché io direi che se va bene pareggiamo, visto che all'andata ce ne hanno rifilati tre. E poi l'ultima partita è fuori casa, in Grecia, contro l'Olimpiaco. Se sappiamo benissimo noi come giochiamo le ultime partite del girone fuori casa, vi ricordo Siviglia e Galatasaray. Tra l'altro dopo, cioè a metà tra Napoli e Inter. Cioè in campionato abbiamo Napoli e Inter e in mezzo c'è l'Olimpiaco. Ma dove vogliamo andare? Per quanto mi riguarda, in ogni caso, la Champions della Juventus è finita ieri e vi dico perché. Voglio essere molto chiaro. È finita ieri la Champions. Cioè ammettiamo questa cosa noi stessi. La Champions è finita ieri. Poi l'andremo a vincere e saremo tutti felici. Ma è finita ieri. Vi dico perché. Perché semmai riusciamo a qualificarci agli ottavi, e non lo do assolutamente per scontato, visto che siamo vittime di noi stessi nelle partite che contano. Quindi non c'è la possibilità che diciamo ok ma dobbiamo giocare con l'Olimpiaco se è fatta, la vinciamo, la Juve verrà fuori. La Juve non viene fuori un cazzo. Non sta venendo fuori mai quando serve. Ok? Al di là di questo, se ci qualificiamo agli ottavi saremo secondi. Saremo secondi. E con la situazione che c'è in giro con gli altri gironi, facile che troviamo un avversario tostissimo agli ottavi. E sappiamo che cosa succede alla Juventus quando gli ottavi trovano un avversario tostissimo. Poi vedremo tempo al tempo. Parliamo adesso di questa partita. Non so da dove partire, vorrei partire da Massimiliano Allegri. Le colpe sono le sue, ovviamente. Gravissime, per l'ennesima volta. Si valese ancora una volta come la squadra non riesca ad eseguire le sue direttive. Un conto è quello che dice lui, un conto è quello che si vede in campo. La squadra va completamente per cavoli suoi. E comunque, pur a seguire quello che dice lui, si finisce male. Mi dovete spiegare che modo è quello di approcciare ad una partita. Al di là dell'atteggiamento spento di molti giocatori nel primo tempo, e voglio dire questo, nei primi 15 minuti lo Juventus c'era anche come approccio tattico, stava tenendo palla, teneva pressione alta, ma bisognava aumentare i ritmi per fare i gol. Nel momento in cui si è provato ad aumentare i ritmi, panico, frenesia, confusione totale, tutti i giocatori fuori posizione, non si riusciva più a innescare una rete di passaggi, come si era già visto tra l'altro in altre partite, contro la Lazio, contro lo stesso Sporting, che all'andata veramente si era fatta una partita pessima e si è riusciti a fare peggio, siamo riusciti a fare peggio ieri al ritorno, e è arrivato appunto il gol dello Sporting, figlio tra le altre cose di una disattenzione di Alex Sandro, per il quale bisognerebbe fare un video a parte per Alex Sandro. Un'involuzione clamorosa di questo ragazzo, è irriconoscibile, non riesce più a fare nulla, niente, è meglio Asamoah, in queste condizioni Asamoah è molto più forte di Alex Sandro, dà molte più garanzie, sia difensive che offensive. È incredibile che cosa è diventato Alex Sandro. Dopodiché ovviamente, preso il gol, la Juve sparisce dal campo. Interruttore chiuso, nessuno fa più nulla, gioco 0 e si va all'intervallo dove ovviamente non succede nulla, perché Allegri non fa un cambio, è impossibile, è impensabile. Con la squadra che c'era nel primo tempo, stai perdendo 1-0, devi farne due e non fai un cambio. L'atteggiamento non può ovviamente modificarsi, perché se sei una squadra in grado di morire per un 1-0, è chiaro che un intervallo non ti cambia nulla. E di fatti il primo tiro in porta, ragazzi, al sessantesimo l'ha fatto De Sciglio. Ora, De Sciglio ha fatto la sua buona partita, niente di straordinario come nessuno, tra l'altro ha fatto qualcosa di straordinario ieri da parte della Juventus. Al sessantunesimo De Sciglio esce ed entra Douglas Costa. Ora, voglio dire ad Allegri, questo cambio, che senso ha? Cioè, va benissimo che esce De Sciglio ed entra Douglas Costa. Ma perché al sessantunesimo? Perché se lo facevi entrare un po' prima a Douglas Costa, che cosa cambiava? 61, poi non so se è 62, 63. Perché non poteva entrare prima Douglas Costa? Era chiaro che servisse lui nel campo per cercare di sbloccare questa partita ed infatti in due minuti che sono entrati Douglas Costa e Matuidi sono stati loro i migliori in campo. Incredibile, qualcosa sono riusciti a fare rispetto a quello che non erano riusciti a fare prima tutti gli altri. Ma poi voglio dire, De Sciglio, no? Vuoi togliere lui per Douglas Costa? Perché aspetti il sessantesimo? Perché tu hai calcolato che De Sciglio ha un'ora di gioco? E quindi gli devi far fare un'ora di gioco? Ma perché non lo togli prima? Cioè, devi adattarti, caro Allegri, alle situazioni, devi essere più flessibile, non puoi tenere i tuoi schemi. E parlando degli schemi fissi di Allegri, diciamo che il problema è proprio questo. Che lui fa giocare degli interpreti inadeguati a questo modulo, cioè impone, imbriglia questi giocatori ad un modulo e ad un sistema di gioco che non è congeniale a loro, ma è congeniale solo alla mentalità di Allegri alla sua testa. Che a questo punto diventa incomprensibile e dirò di più, caro Allegri, non ti meriti neanche le giustificazioni questa volta, perché mentre all'andata, vabbè, l'hai vinta, non sai manco come, ma l'hai vinta. Adesso non hai neanche vinto e non c'hai neanche la giustificazione magari di aver, che ti devo dire, punteggio pieno in campionato, per cui dici ci può stare un pareggio in Champions. No, non hai neanche quello, non hai neanche quello. E quindi mi devi dire, questa tua speculazione sul gioco, questo tuo gioco al ribasso, che cosa ti sta affruttando? Ti sta affruttando rischi gravissimi per la stagione e gli obiettivi della Juventus. Una squadra che potrebbe vincere sulla carta tutte le partite, tutte le partite, giocarsela con avversari fortissimi, vista la rosa che ha, devi andare a soffrire e perdere per poi ragguantare, lo diciamo tra poco come, una partita contro lo Sporting, che è una squadra da Europa League. È una buona squadra, ma da Europa League, e potrebbe anche vincere l'Europa League, perché è organizzata bene, potrebbe arrivare in fondo, ma è da Europa League, speriamo che ci vadano a questo punto, perché potrebbe andarci la Juve in Europa League, per come si stanno mettendo le cose. Quindi nessuna giustificazione del Ligue stavolta, neanche appunto, cioè di solito noi del Ligue quando la Juve gioca male lo giustifichiamo perché prende i punti, ma dove stanno i punti? Neanche il risultato è arrivato questa volta. Parliamo di come abbiamo pareggiato tra l'altro, una genialata di Quadrado in un deserto che è stata la sua partita, altro giocatore perso, completamente Quadrado, non sa neanche lui come è riuscito a fare quel filtrante, visto che non è una sua giocata, ed è stato casuale che quella volta Iguain non fosse in fuorigioco, perché Iguain ha fatto dieci fuorigiocchi ieri, e non per colpa di Iguain, per colpa del sistema di gioco che non funziona, dell'idea di gioco che proprio non c'è, perché una volta si fa una cosa, una volta se ne fa un'altra, una volta si tenta una cosa, una volta se ne tenta un'altra, giocatori che dovrebbero andare sul fondo e crossare stanno all'interno e quelli che dovrebbero stare all'interno vanno sul fondo a crossare, a crossare poi per modo di dire, sempre palle scaricate all'indietro per nessuno, e quindi là poi Iguain lo segna, ma è casuale che siamo arrivati a fare quell'azione così, quindi non c'è neanche un grosso merito né della squadra né di qualche giocatore, né soprattutto dell'allenatore per essere riusciti a non perdere ieri, che se perdevi voglio proprio di vedere chi era in coscienza, in grado di salvare questa prestazione, questo allenatore, questa situazione della squadra. Parliamo di Quadrato, Quadrato è uno che avrebbe bisogno di un reset mentale, perché sembra che ogni volta che va con la palla al piede, a ridosso dell'aria, pensa, eh ma questa giocata già l'ho fatta, eh ma questa giocata già l'ho fatta, quest'altra giocata pure già l'ho fatta, adesso che cosa mi invento per fare una cosa diversa? Quando lui dovrebbe fare in realtà niente di straordinario, la cosa più semplice è saltare l'uomo e mettere dentro, saltare l'uomo e mettere dentro, saltare l'uomo e mettere dentro. Ma perché queste cose non le capisco io, se è vero che le capisco e nessun altro? Cioè, Allegri che cosa fa? È normale che Quadrato ogni volta va, si ferma perché rallenta il gioco, perde il tempo per il passaggio utile, nel frattempo i compagni si sistemano in aria di rigore, e poi fa sempre la stessa cosa, scarica dietro e la palla è persa, perché ricomincia il giropalla, perché il tiro non viene bene, grazie, tiri da fuori aria. Che senso ha? Per non parlare delle volte che Quadrato ha perso palla, per non parlare delle palle perse da Alex Sandro, da Barzagli, da Barzagli con i contropiedi dello Sporting che due volte ci stava facendo il 2-0. Cioè, di che parliamo? Aveva fatto una 1-1 cosa. E parliamo ancora di Allegri, di come vede le partite, anzi, avrei dovuto parlarne prima, dobbiamo parlare di Mario Manzucic, signori. Cioè, quel cadavere di Mario Manzucic ieri nel campo, era un cadavere, era la seconda volta consecutiva, perché anche col Milan ha praticamente non giocato. Savallia era un morto nel campo col Milan, allora ci può stare, perché è un giocatore che le gioca tutte, sente la fatica anche lui, ti capita un momento in cui non ci sei. Ma perché lo mette nel campo? Perché non è uscito? Perché ha tolto di bala per mettere Bernardeschi e Manzucic stava ancora in campo? E' entrato Bernardeschi, palla geniale sul fondo per andare subito, senza perdere tempo a mettere dentro il cross, Manzucic fermo. Manzucic fermo, palla in fallo laterale. Veramente, veramente avvilente. Ma non è solo quella la giocata di Manzucic, non ha fatto assolutamente nulla. Non voglio manco dare le colpe a Manzucic, la colpa è di Allegri, che non lo leva mai dal campo. E per quale ragione? Ma tu, in allenamento, cosa fai tu, mister? Li vedi a questi che non stanno bene? Cioè, vedi che Manzucic non sta bene? Vedi che Alex Sandro non sta bene? Deve giocare chi sta bene, chi è in forma, non chi è il cocco dell'allenatore, o chi piace, perché bisogna fare quel sistema di gioco là. Cambia sistema di gioco. Di bala, di bala. C'è da prendersela anche con lui, perché non ci ha messo il piglio che ci doveva mettere, anche se nel primo tempo forse è l'unico che si salva. Ma, ragazzi, ha giocato mediano. Cioè, ci rendiamo conto che stava a 60 metri dalla porta. Cosa può fare di bala a 60 metri dalla porta? Io non so. La situazione, quindi, diciamo, è questa, è sempre la stessa, sono cose che abbiamo già detto, e io a questo punto vi pongo un altro interrogativo, per chiuderla. Che razza di campagne acquiste abbiamo fatto quest'anno? Cioè, gli acquisti estivi, a cosa sono serviti? A chi giovano, a chi servono? Cioè, se l'allenatore non capisce come deve giocare Douglas Costa, e come deve integrarsi i bernardeschi, ma perché li abbiamo comprati? Cioè, a chi sono stati affidati questi giocatori? Perché io posso capire se, comunque, un Douglas Costa è congeniale al sistema di gioco dell'allenatore, però magari ha delle difficoltà il ragazzo ad inserirsi, ci sono delle partite in cui le cose vanno storte. Invece qua non è così. Cioè, ieri c'era una partita da vincere, ma da vincere in maniera proprio maiuscola, e lo si poteva fare e siamo andati a fare la figuraccia che abbiamo fatto. E questo, ripeto, perché l'allenatore non è in grado di far rendere i suoi giocatori. Io mi scuso per il video lungo. Per oggi vi saluto, vi faccio ancora gli auguri per la festività di tutti i Santi, e anche per il nostro tifo, perché la Juventus oggi compie 120 anni. Iscrivetevi, se vi va, al mio canale. Se vi è piaciuto questo video, lasciatemi anche i vostri commenti. Seguitemi su Twitter, Simone Absim. Cliccate mi piace alla mia pagina Facebook, Simone Absim Juve. E partecipate al gruppo su Facebook Colpo Gobbo e Simone Absim, Juventus Fan Group, in cui parliamo davvero di Juventus. Sempre Forza Juve.